Musica Ciao amici, come siete venuti in questo nuovo video che sarà un nuovo video collaborazione questa volta con Altea di questo canale YouTube vi lascio anche qua il suo Instagram, trovate tutto in descrizione andate a vedere il suo video, lasciate un bel pollicione in su e iscrivetevi al suo canale una premessa, questa inquadratura è cambiata perché ho scoperto che mio papà ha un cavalletto e qua c'è anche la luce della finestra sto cercando di sistemare un po' per adesso questa inquadratura è provvisoria e sistemerò anche tutte le luci e tutto quanto e oggi vi portiamo un video sulle 10 cose che non sapete su di noi piccole curiosità o cose anche un po' più magari che non vi abbiamo detto sui nostri canali e niente, direi subito di cominciare la prima cosa che non sapete su di me è che ho una fobia per gli insetti io vivo in campagna e ce ne sono un sacco io ho proprio una fobia, nel senso che in questi ultimi anni ho sviluppato questa fobia per gli insetti o qualsiasi cosa che appartenga agli insetti dormiche, vespe, api, cioè tutto ciò che mi può pungere un po' fuori del male da parte degli insetti mi fa veramente veramente paura e le cimici mi fanno veramente schifo e con i cavalli diciamo che è un po' un problema perché loro sono pieni poverini di insetti infatti io compro sempre chili di antimoscoli tutto a loro e me lo do anche per me perché ho veramente questa fobia e niente, quindi cerco di combatterla però è una cosa proprio che... la seconda cosa che non sapete su di me è che io la mia page Instagram che vi lascio qua, mi raccomando, andatemi a seguire perché lì vi tengo sempre aggiornati ce l'ho dal 2016, quindi da quando ho iniziato veramente equitazione in un maneggio e quindi diciamo che c'è un po' attivata tutta la mia storia a cavallo partendo da quando ho preso il mio primo cavallo in mezza fida e i due anni prima di miracoli non ci sono perché le avevo su un'altra page e poi non trovavo più le foto però lì c'è tutta la mia storia e molte foto le ho cancellate cioè cancellate oppure post archiviati perché avevo un sacco di post ora ne ho tipo 100 quindi mi raccomando andatevi a vedere anche i post in fondo perché sono veramente divertenti, ci sono un sacco di foto soprattutto dei cavalli la terza cosa che forse non sapete su di me è che ho due cavalli a casa cioè da mia nonna ho due cavalle che si chiamano stelle gemma di cui vi ho parlato su instagram qui farò un video dove ve le presenterò bene a breve quindi niente vi dico solo che sono due cavalle vengo al prato a mangiare, a non fare niente perché sono quasi completamente sdome e hanno 23 anni ciascuna qui farò un video a breve dove ve ne parlerò la quarta cosa che forse non sapete su di me è che io ho portato l'apparecchio sicuramente lo sapete se mi seguite dall'inizio perché nel primo anno di canale io avevo l'apparecchio l'ho tolto a ottobre 2019 e l'ho portato per 4 anni la dentista mi aveva detto che l'avrei tenuto 2 anni e mezzo poi ci sono stati vari problemi l'ho portato 4 anni quello fisso e adesso me lo sono tolto però comunque quello mobile e quando andai dal dentista la prima volta per fare il controllo mi disse che io avevo la bocca come cavalli e io mi misi a ridere praticamente io avevo la bocca prima dell'apparecchio dove i denti sopra toccavano con i denti sotto e quindi mi spostavano tutti i denti della dentatura sotto quindi è come cavalli in effetti perché i cavalli hanno la bocca che si chiude così e quindi mi sono messa a ridere e ho detto vabbè questa è un sanzione del destino la quinta cosa che non sapete su di me e anche molto divertente è che io non so fare l'occhiolino cioè tipo io faccio così ma non è un occhiolino vero allora di qua non mi riesce proprio perché chiude anche l'altro e questo un po' meglio però cioè si vede che lo faccio non è una cosa veloce come dovrebbe essere e di qua proprio cioè non mi riesce sono disadattata in questo forse sono l'unica persona al mondo che non lo sa fare la sesta cosa che forse non sapete su di me è che non so fare oltretutto il 4 con la mano cioè tipo io conto 1,2,3,4,5 però di solito almeno le persone che vedo fanno 1,2,3,4 così cioè tenendo il dito 4,5 solo che a me non riesce cioè io ho provato un sacco di volte ma non mi riesce cioè io se non tengo il dito così non mi riesce o faccio così però è 3 non è 4 però cioè non sta giusto ma anche di qua non sta giusto il dito quindi devo contare 1,2,3,4 così perché sto dito non vuole stare giù la settima cosa che forse non sapete su di me e che magari non può sembrare è che a me non piace il trucco nel senso che allora mi piace vedermi truccata perché non sembrano zombie e mi piace comunque quando poi mi ci metto di impegno truccarmi però lo faccio per necessità ora che siamo in quarantena non vedo i trucchi da quando è iniziata già da quando siamo non siamo più andati a scuola perché io mi trucco solo a scuola che mi trucco proprio la base per non sembrare uno zombie alle 6 di mattina un po' di mascara matita e un pochino di illuminante basta quando voglia se non neanche quello e oppure se ho delle feste dei compleanni eccetera il sabato sera per andare in discoteca quindi io non mi trucco molto tipo per andare a cavallo rimango truccata perché quando arrivo da scuola mi strucco la sera non mi strucco prima di andare a cavallo quindi a volte rimango truccata però tipo le domeniche mattine che vado a cavallo non è che mi trucco nel senso e a me cioè secondo me è anche più sano per la pelle truccarsi il meno possibile odio farmi tutti quei trucchi lavorati ombretti cose mamma mia lasciamo perdere a parte perché non sono capace e poi perché troppo tempo cioè no tipo io invidio quelle ragazze siete il mio idolo che durante la quarantena non sapete che fare vi truccate perché io non ho voglia neanche di quello l'ottava cosa che probabilmente non sapete su di me è una cosa un po' brutta ovvero che io ho passato delle medie orribili perché sono stata vittima di bullismo lo dico così apertamente non sono una persona vittimista quindi non non cerco pena da nessuno solo che siccome io parlo con voi di tutto praticamente volevo condividere anche questa piccola parte del mio passato che in tutti i tre anni di medie io avevo una sola amica in classe cioè che io ritenevo amica infatti Anna Lisa infatti non ho ancora un sacco amiche le voglio un sacco bene le mando un bacione grande però tipo l'altra parte della classe si è sempre schierata contro di me un po' perché io ho questo carattere particolare non so tanto integrarmi non ho questo carattere un po' così e non so tanto integrarmi e quindi poi mi hanno sempre preso in giro sul mio fisico su tutto quanto che io ci sono sempre rimasta tanto male però ho sempre risposto a coloro che mi hanno chiamato in tanti nomi in tanti modi e ho sempre risposto a tutti non mi sono mai fatta mettere i piedi in testa però mi sono sentita tanto sola quindi io tre anni di media non le ripeterei mai perché sono stati tre anni veramente d'inferno alle superiori adesso un po' meglio ho sempre pochi amici e la concezione dei pochi ma buoni perché gli unici amici che ho sono veramente tutta la mia vita e quindi mi fido ciecamente di loro chi è importante per me lo sa però io tendo comunque a non essere una persona molto amichevole tra virgolette proprio per il mio passato e quindi anche questa piattaforma di youtube mi ha un po' diciamo smosso in questo perché ho conosciuto un sacco di persone nuove e quindi sono anche fiera di aver voluto aprire questo canale perché ha anche cambiato una parte di me una cosa che forse non sapete su di me è che quando io ho aperto questo canale ovvero dopo Fiera Cavalli Verona 2018 l'ho fatto perché vedevo a Fiera Cavalli che c'erano tutte queste ragazze Pernilla Giada Chiara e alcuni ragazzi che aprendo questi canali avevano un sacco di riscontri infatti anch'io sono andata ai loro incontri e le vedevo che erano veramente felici addirittura Giada si era messa a piangere e quindi ho detto ma perché non provare ad essere felice come loro anch'io e quindi niente ho provato e ho trovato un riscontro con voi che anche se siamo una piccola famiglia ma c'è la mia famiglia e mi scrivete ogni giorno cose stupende e vi ringrazio tanto 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 un bacione a tutti la decima cosa passando dalle cose poetiche e molto trascendentali ho una particolarità nel senso che io quando rido tipo così mi viene questo buchino qua sulla guancia quando ero piccola mi viene molto profondo adesso un po' meno perché ho le guance cioè non mi sono fatta a botulino giuro ho le guance molto paffute quindi quando faccio così si vede che qua mi viene un pochino sulla guancia che non so mi viene così non è che faccio cose particolari ce l'ho dalla nascita e quindi niente spero che queste cose vi abbiano un po' divertito un po' intrattenuto vi ricordo di iscrivervi qua sotto al canale di Altea che vi lascio qua vi lascio qua anche il suo Instagram ringrazio tanto un bacione per aver accettato questa collaborazione andato a vedere il suo video e quindi niente spero che questo video vi sia piaciuto un pollicione in su un commentino qua sotto o quali cose magari sapevate già su di me oppure no vi ricordo di iscrivervi questo attacchi e la campanella per non perdere i prossimi video e ci vediamo al prossimo spero con inquadratura migliore e ci vediamo